La regione attraverso il FEAM, perché è il Fondo Europeo per le Affari Marittime della Pesca, è la misura 568, ha proprio come obiettivo quello di promuovere il pescato siciliano, quindi materialmente ogni anno viene fatto un bando e le associazioni, le varie componenti che in Sicilia si operano appunto di promozione, presento delle progettualità che noi valutiamo e finanziamo. La Sarduzza Fest è fra queste, devo dire che è veramente una, a mio parere, fra le migliori manifestazioni che si svolgono in Sicilia. Promuove un pesce, un prodotto che veramente lo definirei forse il principe, uno dei principi delle marinerie siciliane, io sono di Sciacca, quindi la sarda, le sardine sono per noi fonte, sono state per anni fonte di reddito per tutta la marineria. E in particolare anche per la marineria salinuntina che fa parte di questo territorio, devo dire che è molto apprezzata.